Con cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio Latrippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io mi dicessi che una volta eletto mi batterai per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! E se io mi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di freggiarsi di questo appellativo parlamentare e chiedo per danno i vostri voti per i belli del paese, voi mi credereste? Sì! E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli incerui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti. Perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio, dico cacchio! Perché questi signori, appena saranno eletti, poseranno i loro sporchi deretani sugli scanni della camera! E poi lasci, e lasci! E poi... E poi... Non saranno soltanto i loro scorti affari, e faranno fessi! Perché sono baffoni, baffoni! Baffoni! Non battaglie per me! Non battaglie per me! Grazie a tutti.